Amici Trebimeteo, un saluto da Luca Pace e benvenuti a questo aggiornamento delle previsioni per la giornata di sabato. La vediamo come una blanda circolazione ciclonica insiste sul Mediterraneo e sarà responsabile di nuove piogge in arrivo, in particolar modo sulle regioni tirreniche. Andiamo appunto anche dalla carta della nuvolosità, come nel corso della giornata ci attendiamo maggiori addensamenti, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre ampie aperture le ritroveremo in particolar modo sulle regioni meridionali, quelle del versante adriatico e al nord. Andiamo a vedere quindi nel dettaglio la previsione per la giornata di sabato, cieli sereni o poco nuvolosi al nord, attenzione tuttavia al mattino alla formazione di nebbie sulla pianura padana, al centro-sud una maggiore nuvolosità con piogge su Toscana, Umbria e Lazio, mentre i cieli saranno per lo più poco nuvolosi nelle due isole maggiori e all'estremo sud. Per quanto riguarda le temperature, queste ancora sono piuttosto rigide al nord, con massime che non supereranno i 9-10 gradi, mentre al sud avremo ancora clima mite per il periodo e con punte di 16-17 gradi. Bene, per questo aggiornamento è tutto, vi ricordo per ulteriori dettagli di scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.